Ma allora ti piace veramente? Davvero? E chi c'era? No, stai scherzando. È incredibile. No, ma dai, dove ti ha portato? Sì. Lo so, è bellissimo. Che figata. Non posso più parlare, ora ti mando un messaggio. L'estrema povertà nel mondo si può sconfiggere. Non hai più scuse per non fare qualcosa. Non hai più scuse per non fare qualcosa.